Ben trovati, oggi mi trovo a Sant'Ilario, località Calerno in via Falcone e sono qua per presentarvi un appartamento al piano terra con il giardino privato e l'ingresso indipendente Costruzione del 2009, veramente ben rifinito, andiamo a scoprirlo insieme Come noterete sin da subito questa soluzione è veramente ricca di dettagli veramente dettagli curati nei minimi particolari Abbiamo una controsoffittatura col cartongesso, abbiamo le porte fuori capitolato e l'ingresso è direttamente sul soggiorno, un soggiorno regolare, la cucina è a parte Nella zona notte troviamo le due camere da letto, un bagno spazioso e un grande ripostiglio Il pezzo forte di questo appartamento è sicuramente l'aria esterna Parto col dire che è presente un grande portico dove potrai pranzare o cenare in tutta tranquillità Il giardino è un giardino ad L di circa 150 metri e pensate un po', l'erba è un'erba sintetica di ultima generazione non avrà bisogno di manutenzione Attenzione, esternamente troviamo anche la doccia, possiamo prendere il sole tranquillamente all'esterno Questo appartamento è pluriaccessoriato, ve ne elenco solo alcuni, tipo le inferriate, il doppio split d'aria condizionata il riscaldamento a pavimento e tutta la costruzione è volta ad un effettivo risparmio energetico Per prenotare la tua visita privata o avere maggiore informazione non devi fare altro che chiamarmi E se devi vendere casa, affidati ai professionisti di sempre A presto!